Fare i conti con l'ambiente 2015, il tema di oggi è l'acqua, con Andrea Scirelli, Lue, Lab, introdurci questa giornata e darci alcuni spunti, alcune parole chiave. Parole chiave, crisi, disastro, mancano i depuratori, nel senso che in alcune regioni del sud siamo a copertura del 20-25%, poi però andiamo a fare il bagno e ci chiediamo ma è depurata questa? No, allora come Lue l'abbiamo messo assieme tutti i protagonisti del settore per poter dialogare tra, come sta scritto, regolatori, industrie, ma perché no cittadini e quindi cercare di capire come vanno messe assieme queste cose. Tema vecchio che però non è mai stato affrontato bene. Ottimo, come è stato conciso, grazie Andrea Scirelli, buon lavoro. Ottimo, come è stato conciso, grazie Andrea Scirelli, buon lavoro.